Un saluto a tutti i telespettatori di Rossini TV e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi andremo ad affrontare un tema importante, un tema che riguarda tutti, ovvero il tema dei consumatori. Lo faremo assieme all'AudiConsum della CISL e lo faremo assieme a Leonardo Massi, che è il responsabile provinciale di AudiConsum, Pesaro Urbino. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Chiariamo l'AudiConsum, visto che sono tutte queste sigle, andiamo a sradicare quello che è il significato. Questo è l'Associazione a difesa dei consumatori e ambiente promossa appunto dalla CISL. Io partirei proprio con le attività che svolge, ecco perché tutti noi siamo consumatori, volenti o nolenti. Ovviamente ci dividiamo in tante categorie, il singolo, il gruppo e poi anche altre attività, macroattività che svolgete. Sì, possiamo suddividere le nostre attività in tre macroattività. La prima è la tutela individuale, quindi la classica attività di sportello. Quindi noi riceviamo le persone nei nostri sportelli che ci espongono il caso specifico e noi poi interveniamo per risolvere la controversia che si è venuta a creare. L'altra macroattività è quella della tutela collettiva che riguarda il consumatore più a livello aggregato. Quindi parliamo di grandi temi che magari non sono circoscritti solamente, limitati solamente al territorio regionale, ma che escono anche dai confini regionali e vanno appunto in ambito nazionale. E poi è una macroattività molto importante, la colonna portante della nostra associazione, l'informazione e la formazione affinché il consumatore possa poi gestire in autonomia le varie utenze e possa appunto avere un consumo educato e consapevole. La prevenzione è come sempre forse la miglior difesa in tantissimi casi e anche in questo. Io andrei un attimo a vedere anche quali sono i temi, perché uno dice consumatore è una parola, un termine che tutti conosciamo, forse meno conosciamo i casi in cui possiamo definirci tali per rivolgerci appunto al vostro servizio. Adesso prendo due forse dei temi più popolari, se possiamo dirla così, che possono essere ad esempio la telefonia o l'EPTV. Sì, esattamente, diciamo per andare più nel dettaglio della nostra attività, i temi principali che ci siamo trovati a trattare negli ultimi anni, ma comunque da parecchio tempo, soprattutto i problemi con i gestori telefonici, no? Facciamo l'esempio, tante volte non abbiamo la linea telefonica o la connessione internet, oppure troviamo una fattura anomala. Stessa cosa adesso, soprattutto negli ultimi anni, c'è stato lo sviluppo massiccio, insomma, delle pay tv, no? Quindi questi abbonamenti che facciamo, tante volte non ci sono delle clausole molto chiare, quindi magari ci troviamo delle sorprese nelle fatture, oppure il servizio non è come quello che ci aspettavamo. Poi ci sono tanti altri temi che come associazione consumatori trattiamo, e soprattutto negli ultimi anni non possiamo non citare il tema dell'energia, quindi le problematiche che ci sono con i fornitori di luce e gas in particolare, problematiche causate soprattutto tante volte da una scarsa, purtroppo una scarsa conoscenza, no? Delle varie dinamiche, dei vari parametri da valutare in un contratto, no? Soprattutto quando ci contattano telefonicamente, ci bersagliano, si massacrano di telefonate tutti i giorni, insomma. Qui rientra appunto il discorso della formazione che si faceva prima e dell'informazione. Esattamente. Parlando di contratti, poi ci sono anche altre tipologie di contratti, come ad esempio può essere un mutuo nel caso dei consumatori, e qui entra in gioco anche il tema finanziario, che è sempre un tema che andate a seguire. Sì, esattamente, noi a livello regionale siamo competenti in materia finanziaria, quindi siamo in grado di dare consigli su finanziamenti, su contratti di mutuo, quindi l'analisi dettagliata dei tassi di interesse, TAN e TAEG, e ci occupiamo anche, posso aggiungere, di sovraindebitamento. Quindi riusciamo a dare una mano anche a persone che si trovano in difficoltà nel fronteggiare le rate di un finanziamento, di un mutuo, soprattutto in un periodo critico come quello attuale. Ecco, ora, prima di passare agli strumenti, tiriamo fuori anche un altro tema che poi è un po' all'ordine del giorno e della cronaca, che è anche quello dei trasporti, perché il consumatore è anche chi prende un autobus, chi prende un treno, e quel treno effettua ritardi o appunto causa disservizi. Siamo tutti utenti del trasporto pubblico, no? Tutti abbiamo preso una volta il treno, il bus o un aereo, no? Quindi ci capita spesso, e soprattutto adesso dopo l'estate comunque è un tema molto caldo, quindi insomma riusciamo a gestire problematiche che si vengono a creare con compagnie aeree, faccio l'esempio smarrimento bagaglie, ritardi, cancellazione di un volo, soprattutto le compagnie low cost, ci sono compagnie insomma che mettono veramente molto in difficoltà a fronte, sì, di costi molto bassi, ma purtroppo il servizio tante volte non è all'altezza. Parliamo comunque anche di treni, quindi Trenitalia, e anche insomma di bus, quindi trasporto pubblico locale che è un tema a noi molto caro. Sì, anche perché poi il trasporto pubblico serve anche per ridurre l'inquinamento, tutelare l'ambiente, quindi ecco la funzione risulta fondamentale, anche il servizio dovrebbe garantire determinate prestazioni. Ecco, quando queste prestazioni non ci sono, che sia il ritardo di un aereo, piuttosto che una bolletta strana, ecco definiamola così, molto spesso il consumatore dice, ah adesso ci penso io, ci penso io, effettivamente in questo caso può rientrare Audi Consum e dire, proporre in qualche maniera una soluzione. Ecco, sono soluzioni poi extra giudiziarie, quindi non mettono in campo il legale, che spesso uno dice, ah ma cosa metti in mezzo l'avvocato, spendi più per l'avvocato che per quello che poi ti rientra. Esattamente, sì, noi diciamo che per risolvere le controversie, qualora dopo la nostra valutazione porti insomma alla necessità di intervenire, noi abbiamo degli strumenti, appunto come si diceva giustamente, extra giudiziali, quindi non c'è la necessità di rivolgersi a un legale e diciamo che veniamo prima, per farla molto più semplice, veniamo prima dell'eventuale intervento del legale, no? E cerchiamo di risolvere attraverso due principali strumenti, che sono il reclamo e la conciliazione, che sono frutto comunque di accordi che le associazioni consumatori, tra cui Adconsum Market e le aziende, perché c'è una certa convenienza da entrambe le parti, sia dal lato del consumatore, sia dal lato dell'azienda, la convenienza di risolvere le problematiche senza poi ritrovarsi insomma in un'aula di un tribunale, ecco, quindi i vantaggi di questi strumenti che hanno costi comunque contenuti, alcune procedure sono anche gratuite, efficacia, perché come dicevo prima c'è interesse da entrambe le parti a risolvere la problematica subito e in tempi soprattutto molto rapidi. Ecco, anche perché spesso può capitare che purtroppo il cittadino magari va a chiamare quella realtà, quella grande azienda, magari si trova in una lista d'attesa infinita, in questo caso ovviamente una realtà come la vostra, utilizza anche dei canali dati poi da quello che va a rappresentare a livello nazionale come immagine. Sì, esatto, perché comunque come dicevo prima le associazioni consumatori grazie agli accordi che si fanno a livello soprattutto nazionale con le aziende riusciamo ad avere dei contatti diretti appunto per risolvere in maniera molto snella ed efficace le problematiche, avere soprattutto una risposta, perché è quello il problema, soprattutto che le persone come utenti magari ricevono anche delle risposte forvianti, imprecise invece, magari tante volte perché fanno leva sul fatto che il consumatore non sia perfettamente informato, invece come associazione consumatori riusciamo a dare le informazioni giuste ed avere risposte corrette. Sì, apriremo un ticket, forse è la frase che più abbiamo tutti sentito. Bene, ora veniamo a quello che è il nocciolo della questione fondamentalmente, come fare per contattarvi e soprattutto come fare per usufruire dei servizi che proponete? Sì, allora per usufruire dei nostri servizi e dei nostri strumenti è necessario come associazione insomma è necessario versare una quota associativa e ovviamente noi siamo comunque direttamente collegati al sindacato CISL e quindi per gli iscritti CISL ci sono delle agevolazioni sulle quote associative e i nostri principali contatti oltre alla mail che è pesaro-adconsum.it che appunto copre comunque, non è solo limitata al territorio, alla sede territoriale appunto di Pesaro ma insomma riguarda tutto il territorio provinciale, abbiamo anche un numero telefonico da contattare 0721 370104 e poi invitiamo tutti i telespettatori a seguirci sui social perché siamo presenti su Facebook dove appunto mettiamo tutti i nostri contenuti, video, interviste, comunicati stampa, news varie e siamo presenti anche su YouTube e anche appunto abbiamo anche il sito internet adconsummarket.it Ecco quindi diciamo comunque da un punto di vista informativo per chi volesse ce n'è di spazi e luoghi anche online dove venervi a trovare e poi ovviamente immagino che all'interno della tessera dell'iscrizione che uno va a pagare ci sono già compresi una serie di servizi. Tutti i servizi, tutte le pratiche di cui una persona ha bisogno sono coperte insomma dalla quota associativa quindi non è un costo a pratica ecco questo ci tengo a differenziare. Fa la tessera diciamo, fa l'iscrizione. Possiamo seguire in tutti i temi sia quando c'è una controversia ma anche per chiedere informazioni appunto perché la prevenzione è assolutamente importante. Ecco, con questa frase che direi che riassume il motivo anche di questa chiacchierata io saluterei i nostri telespettatori sperando di aver reso loro un servizio informativo importante visto che il consumatore è importante perché poi è al nocciolo di tutto quello che il nostro sistema è un'attività quotidiana. Esatto, ed è giusto che sia informato, consapevole e che conosca anche dove andare a cercare un aiuto in determinate situazioni che purtroppo in maniera spiacevole accadono, si può dire anche un po' troppo spesso in determinate situazioni. Sì, è vero. Sì, le pratiche commerciali scorrette sono tante. Noi vi salutiamo, è stato un piacere stare qui con voi. Ringrazio Leonardo Massi per averci fatto compagnia e ci vediamo a una prossima puntata.